Cari ragazzi, vi faccio questo video perché siamo ormai giunti alla fine dell'anno scolastico e ormai abbiamo capito e sappiamo che non ci rivedremo a scuola, sui banchi di scuola, in questo frangente, in questo periodo. Quindi ho voluto potervi salutare con un messaggio video, che per me è comunque un po' strano perché non sono abituata, nessuno di noi penso lo sia, a usare questo tipo di strumenti, ma in questo frangente forse è l'unico modo per poter giungere nelle vostre case, nelle vostre vite con un momento di incontro. C'è un motivo particolare in più che mi ha spinto a girare questo video per salutarvi ed è il fatto che il prossimo anno non ci rivedremo, non sarò la vostra insegnante di religione nel prossimo anno scolastico Perché andrò a fare altre cose E questo fatto, se da una parte mi rende felice perché vado a fare cose che ovviamente mi piacciono Dall'altra mi rattrista molto, soprattutto perché verrà a mancare quel rapporto quasi quotidiano con voi Che per me è stato bellissimo in questi anni Con alcuni di voi ci conosciamo da molto tempo ormai, quattro anni Con altri da meno, solo il primo anno e purtroppo diciamo metà perché sappiamo bene che quest'anno è finito un po' così In maniera brusca e quasi violenta potremmo dire nelle modalità in cui ci siamo trovati da un momento all'altro a cambiare completamente le nostre abitudini E' stato un anno difficile E questo anno così complesso e così complicato che ancora non è finito perché abbiamo riacquistato delle libertà ma non tutte Ancora la pandemia non è estinta e quindi siamo ancora dentro questo fenomeno Quest'anno e questa esperienza possono essere per noi anche una fonte di grande riflessione Possono essere una fonte di riflessione perché ci collocano in un orizzonte in cui la nostra vita viene rimessa in discussione Quando capitano questi eventi sempre e comunque tutti ci sentiamo interrogati Interrogati sulle cose che contano, sulle cose che davvero riteniamo importanti Su chi siamo, su quello che pensiamo in relazione alla nostra vita, al mondo e agli altri Due sono le cose fondamentali che abbiamo riscoperto durante il corso di questa pandemia La necessaria e vitale attitudine alla libertà dell'essere umano E l'altrettanto necessario e vitale rapporto con gli altri L'altro e la libertà sono due valori fondamentali che ci sono stati negati Uno perché ci hanno rinchiuso in casa necessariamente per contenere il virus L'altro perché ci hanno imposto e ancora ci impongo nel distanziamento sociale Quindi l'impossibilità di essere liberi nella frequentazione degli altri Ci ha fatto riscoprire paradossalmente il valore della libertà e il valore della relazione con l'altro Di questi due elementi vi invito a far tesoro Perché sono forse le due cose che possiamo cogliere come più importanti Come più significative nell'esistenza umana E che questa crisi sociale e sanitaria ha messo particolarmente in evidenza Fatemi dire una parola rispetto alla gratitudine che provo nel salutarvi Provo gratitudine per quella parte di vita che abbiamo vissuto insieme Per quel percorso, per quella strada che abbiamo camminato in questi anni fianco a fianco Per quell'ora di religione che è stata un'ora di libertà per tutti noi Entro la quale confidare i nostri problemi, i nostri dubbi, le nostre ansie Entro la quale riflettere sulle cose fondamentali dell'esistenza Su Dio, sulla coscienza, sulla libertà, su chi siamo Sulle domande di fondo della vita umana E questa cosa ha un valore inestimabile L'ho avuto nel tempo, l'ha avuto per me sicuramente Spero abbia avuto valore anche per voi Ma ne sono certa perché la relazione che abbiamo costruito Non è una relazione banale ma è una relazione educativa vera E quindi una relazione profonda Non voglio rubarvi molto tempo Desideravo solo salutarvi e ringraziarvi per quello che abbiamo veramente potuto vivere insieme in questi anni C'è un libro che io amo particolarmente Forse è il libro che amo di più Dopo la Bibbia, va bene È Il Signore degli Anelli di Tolkien Forse qualcuno di voi ha visto il film La Trilogia dell'Anello Che è un po' un caposaldo della letteratura nerd Va bene Qualcuno magari ha pure letto il libro E allora siamo veramente a dei livelli di nerditudine elevati Figuratevi che io l'ho letto più di una volta Il libro è questo Guardate un po' Eccolo qua Non è proprio una lettura da ombrellone Diciamo che è un po' più sostanziosa Anche solo per tenerlo ci vuole una forza non indifferente In questo libro c'è un passaggio che amo particolarmente Ce ne sono molti Ma questo che adesso voglio leggervi È per me molto bello E credo sia quello che voglio dirvi Quello che voglio lasciarvi Come qualcosa da custodire Come ricordo della nostra esperienza insieme È un passaggio in cui I due protagonisti del libro Stanno parlando Sam e Frodo Frodo è il protagonista Che deve distruggere l'anello del potere Sam, il suo compagno di viaggio L'amico per eccellenza Che lo accompagna durante tutto il viaggio Verso metà del libro Hanno un dialogo Un dialogo Un po' mossi dalla malinconia Di quello che stanno facendo Perché si rendono conto Che la vita non è sempre facile E in quel momento particolare La loro vita forse è anche più difficile Del normale Perché sono in mezzo a un'avventura Complicata In cui forse è chiesto loro anche Di sacrificare loro stessi Questo li fa riflettere E a un certo punto Sam Dice qualcosa Che adesso vi voglio leggere E che A mio parere Può veramente Stare Dentro tutti noi E in questa situazione In questo Momento in cui ci salutiamo Lo vedo particolarmente pertinente Quindi ve lo leggo Credevo Dice Sam Che i meravigliosi Protagonisti Delle leggende Partissero in cerca di esse Perché le desideravano Essendo cose entusiasmanti Che interrompevano La monotonia della vita Uno svago Un divertimento Ma non accadeva così Nei racconti Veramente importanti In quelli Che rimangono nella mente Improvvisamente La gente Si trovava coinvolta E quello Come dite voi Era il loro sentiero Penso Che anche essi Come noi Ebbero molte occasioni Di tornare indietro Ma non lo fecero E se lo avessero fatto Noi non lo sapremmo Perché sarebbero stati obbliati Noi sappiamo di coloro Che proseguirono E non tutti Verso una felice fine Badate bene Pensandoci bene Apparteniamo anche noi Alla medesima storia Che continua Attraverso i secoli Non hanno dunque Una fine I grandi racconti No Non terminano mai I racconti Disse Frodo Sono i personaggi Che vengono E se ne vanno Quando è terminata La loro parte La nostra Finirà più tardi Ecco Vi auguro di scrivere La vostra parte La vostra parte di storia In questo racconto Che è il racconto del mondo Che non finisce mai Che dura da generazioni Da secoli Siate protagonisti Siate protagonisti Seppur con un po' di nostalgia Non con tristezza Vi saluto Perché come abbiamo letto I grandi racconti Quelli veramente importanti Non terminano mai Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi